Meravigliosa creatura che non sei altro, non sei altro che una meravigliosa creatura. Domenica 18 dicembre 2022, una giornata splendida qui dalle colline toscane tra Prato e Pistoia. Giornata splendida, ci avviciniamo al solstizio d'inverno, ci avviciniamo alla fine dell'anno. Il solstizio d'inverno, il 21, mercoledì alle 18.30, mi raccomando, siate presenti per la diretta di me e Laura sul gruppo Yoga da Casa con Laura Eddy, gruppo Facebook. Staremo insieme un'oretta, una piccola lezione di yoga con Laura, una meditazione con me, poi un mantra che canteremo insieme così per celebrare un po'. Questo dialogo tra il buio e la luce che avviene proprio in quel periodo lì, no? Questo dialogo dove poi va a finire sempre alla solita maniera, cioè il buio dà l'opportunità alla luce di crescere. E per noi esseri solari è veramente importante, è importantissimo questo momento, un momento incredibile. Ma ti voglio anche dire una cosa, quando io ti dico che sei una meravigliosa creatura, mi riferisco alla macroentità che è al tuo interno, cioè quella macroentità consapevole di essere il contenitore di tutto, il contenitore di ogni cosa. Pensate un po', gli antichi cinesi dicevano che noi veniamo tutti dal WC, che non è quello che tu stai pensando, ma è WU, assenza, CHI, C, dualità, cioè assenza di dualità. Bene, pensa un po', pensa un po', pensa un po' quali sono le tue origini, pensa un po' a quello che contiene al tuo interno, questa assenza di dualità, questo uno che prende forma, prima attraverso delle vibrazioni, poi attraverso un mondo preatomico, preatomico comincia a materializzarsi, attraverso poi l'atomo e dall'atomo gli elementi, gli elementi, i pianeti, le stelle e poi la natura, gli alberi, le piante, gli animali e poi l'essere umano, che può percepire e sentire al proprio interno e anche immaginarsi questo viaggio meraviglioso. E poi quando la meravigliosa creatura si rende conto che c'è un percorso a ritroso, di ritorno alla fonte, all'origine, di ritorno al WC, bene, questa meravigliosa creatura non manca occasione di ricordare a se stesso e agli altri che è un contenitore incredibile di tutte le cose che ti ho appena elencato. E allora quando io ti dico meravigliosa creatura che non sei altro, non percepirlo con la mente, cioè con quella microentità al tuo interno che pensa di essere un panno sporco dentro una lavatrice in centrifuga, che pensa di essere una pallina da ping pong, destra, sinistra, o una pallina da flipper, no, non mi riferisco a quella microentità, anche perché dovrei, in qualche maniera, a volte lo faccio, approcciarmi a quella microentità con la mia microentità, perciò entrerei nel giudizio, nel pregiudizio, cioè nella trappola. Cerco di farlo meno volte possibile, succede, pazienza, normale, però ecco, rammento anche a me stesso e a chi posso che sono una meravigliosa creatura, che siamo delle meravigliose creature. Allora anche in questo momento, che te lo sto dicendo, apri il cuore, spengi la mente, perché è soltanto lì, soltanto nel cuore, che questa frase fa effetto. Meravigliosa creatura che non sei altro, non sei altro che una meravigliosa creatura. Ti abbraccio forte e ti auguro una splendida giornata e come sempre forza, amore, coraggio e volontà.